L'opinione è che col passare degli anni la gente suona sempre di meno perché è interessato a tutt'altro. I ragazzi che si approcciano alla musica credo che abbiano delle qualità che non hanno, o altri ragazzi che magari decidano dedicare la propria vita a essere magari un qualcosa che molto probabilmente non saranno mai. Già il fatto che vedi dei ragazzi che si approcciano alla musica è già un buon punto di partenza. Con il passare degli anni la cosa è scemata. Non ci sono più spazi dove potessi esprimere, le band non hanno più dove suonare, i locali sfruttano le band che vogliono esibirsi e credo che comunque per chi si sbatte, per chi si prende solo tempo in passata a prove, a registrare le demo, rischi eccetera, credo che sia fondamentale avere a meno un rimborso o qualcosa, cosa che non fanno più i locali. I cienzi sociali non sono più magari quelli di una volta, prima davano tanto spazio per le band, si organizzavano molti concerti. È un declino che mi auguro prenda, con passare del tempo un'altra rotta. Sono fiducioso e mi auguro che questa cosa cambi con il passare degli anni. Magari io oggi ho 32 anni, magari un giorno il mio figlio lo vedrò andare in giro in torne come ho fatto io per tutti questi anni. Un saluto al Monte Hue per chi ci guarda. Grazie di cuore per averci invitato, è stata una bellissima serata, sono stati contenti anche voi, quindi siamo tutti quanti super contenti e lunga vita al Monte Hue. Grazie.